Il 20 ottobre del 2011 Gheddafi viene ucciso. A dieci anni dalla scomparsa del leader libico, una proposta a Rai Documentari per analizzare la controversa figura del colonnello. Gheddafi aveva obbligato il paese ad essere unito intorno al suo reggino. Dal debutto sulla scena internazionale solo dopo la rivoluzione cominciamo a progredire ai rapporti con il nostro paese. La caduta di Gheddafi è stata per l'Italia la sconfitta più grossa della Seconda Guerra Mondiale. C'era una volta Gheddafi, questa sera 21.20, Rai 3.